Banca rotta fra dolenta patrimoniale ed evasione dell'IVA, sono queste le ipotesi di reato alla base dei due decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca, sia diretta che per equivalente, per oltre 2,3 milioni di euro. Nel mirino delle fiamme gialle di Teramo, che hanno eseguito i sequestri, a seguito delle indagini della tenenza di Roseto degli Abruzzi, sono finite due aziende della provincia operanti nel settore della riparazione di autoveicoli e della compravendita immobiliare. Al termine delle indagini, i finanzieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo quattro soggetti, amministratori e soci di un'autocarrozzeria, che prima di dichiarare il fallimento per insolvenza della loro attività, avrebbero trasferito i beni aziendali all'interno di una società di intermediazione immobiliare, che sarebbe stata creata ad hoc con l'intento di distrarre i beni dalla procedura fallimentare, arrecando così un danno agli eventuali creditori. La Guardia di Finanza ha denunciato anche l'amministratore di un'azienda immobiliare che si sarebbe appropriato in maniera indebita dell'IVA dovuta alle casse dell'erario, omettendo il versamento di circa 340.000 euro. Questa mattina sono stati disposti i sigilli a opifici, beni e fabbricati per un valore di circa 2.600.000 euro, oltre al sequestro preventivo di 284.000 euro in denaro contante.